Brutto incidente nella mattinata di venerdì 13 settembre poco prima delle 8 in corso Europa a Volpiano. Una moto BMW XR 1100 condotta da un giovane di 29 anni che viaggiava in direzione Volpiano è andata a schiantarsi contro il rimorchio di un mezzo pesante che stava girando in via Pisa. Il motociclista è rimasto incastrato sotto le ruote del rimorchio che si è staccato dal mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco di Torino, Volpiano, l'erisoccorso del 118, la croce bianca volpianese e i carabinieri di Volpiano e del nucleo radiomobile di Chivasso. Inutili tentativi di salvare l'uomo. Il leso il conducente del mezzo pesante è un 47enne della provincia di Mantua. Il corpo del centauro è stato portato alla camera mortuaria di Chivasso in attesa dell'autopsia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. 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 La dinamica è al vaglio dei carabinieri.